In serie D, il Lagozzano, reduci dal pareggio 2-2 sul campo della Vogherese, proverà a fermare la marcia della capolista Alcione-Milano, che in classifica ha sei punti di vantaggio sulla Chisola, che domani affronterà il Borgosesia. Già all'andata, per la verità, gemelli e compagni diedero nel filo da torcere alla prima della classe, che riuscì a ottenere il pareggio solamente in zona recupero. Per il Lagozzano, in vista del rush finale, diventa imperativo provare a fare punti anche contro l'Alcione. L'RG Ticino, che domenica scorsa ha messo fine alla mini-serie negativa, affronta la Sarremese in trasferta. I verdegranata del presidente Guido Presta devono necessariamente conquistare punti per mantenere la loro posizione in zona play-off in eccellenza. Non mancano le partite interessantissime, a cominciare dalla sfida d'alta classifica a Novarello tra la Pronovara e il Borgaro. Chi vince questa partita potrà forse considerarsi la vera grande favorita per la promozione in Serie D. Il Vule Belinzago affronta in casa la dicese Orizzonti, derby tra Accademia Borgo Manero e Stresa Vergante. Il Verbagna sarà di scena sul campo dell'Aigreville, Cossato Settimo, Biellese, Oleggio, Proeure, Calascares e Alpignano, Volpiano Pianese completano la giornata in promozione. La capolista Briga è attesa dalla sfida contro il Valduggia. Il Baveno anch'esso in trasferta contro il Momola. Juve Domo proverà a ottenere punti sul campo del Cever Samabiella. Lomenia invece, ospite della Fugo Roncovaldengo, in una sfida playoff. Il Ferriolo affronta il Cameri in un match che mette in palio punti pesantissimi per la salvezza in prima categoria. La capolista ornavassese in trasferta contro Lagrano, Gravelona-San Pietro contro il Carpignano, il Bagnella a Comignango. Piedi-Molera affronterà il Sizzano. Derby nuovarese tra Trecate e Union Novara.